Buonasera, sono Laura Antichi. Il mio scopo è di mostrarvi ThinkLink. In questa prima parte vedremo come loggarci che cosa sia ThinkLink. Andate nella pagina di ricerca del browser e scrivete ThinkLink. Dovrete cliccare su Create Unique Experience with Interactive Image. Io adesso mi collegherò per farvi vedere la vostra visualizzazione da una finestra in incognito. Vedrete quindi una presentazione che già vi dà il sito sui contenuti. Andiamo alla prima slide. Dice spiega idee, prodotti o servizi complessi con contenuti visivi interattivi e raccoglie dati sul coinvolgimento eccetera eccetera. Ok, ora è importante andarsi a loggare con accesso. Se avete già un account potete fare login inserendo i vostri dati oppure andate nel sign up for free a quindi mettere i dati nuovi per creare un nuovo account. Una volta che vi siete loggati sarete riportati nella vostra dashboard con tutti i contenuti che avete creato se già eravate iscritti e avevate un account. Altrimenti il My Content risulterà vuoto. Da qui partiremo per vedere la creazione di contenuti minimi. Ora volevo spiegarvi che cos'è ThingLink. Cos'è ThingLink? Si tratta di un'applicazione per immagini interattive con punti caldi multimediali. Andremo a mappare con punti caldi immagini statiche o a 360 gradi che aprono finestre con informazioni aumentate. I contenuti sono visivi e linkano a nuovi contenuti e tour aumentati. Collegano immagini a info digitali di vario tipo. Usare ThingLink in didattica flip per descrivere un'immagine nelle sue parti o nei suoi riferimenti. Esempi una piazza, un monumento, un autore. Per proporre risorse, per proporre un web quest partendo da un'immagine, per spiegare un itinerario, per costruire un vocabolario, per dare spiegazioni. Esempi di come usare ThingLink in un progetto. Nel momento anticipatorio la prima opzione è quella che il docente predisponga un ThingLink con alcune risorse sull'argomento che è stato scelto, che mostri alcuni video stimolo sull'argomento e che poi riesca a far concettualizzare e analizzare l'argomento agli studenti. Come seconda opzione il docente potrebbe preparare un ThingLink in completo e collaborativo che invia come homework sull'argomento che è stato scelto. Gli studenti in homework aggiungeranno link e risorse sull'immagine. Nel momento produttivo, prima opzione, il docente predispone un ThingLink sull'argomento come un web quest di approfondimento. Gli studenti in gruppo consulteranno le risorse e produrranno il loro artefatto. Seconda opzione, gli studenti produrranno un ThingLink collaborativo sull'argomento. Gli studenti poi realizzeranno collaborativamente come loro artefatto il ThingLink. Il momento conclusivo dell'attività è un momento di documentazione. Verrà preparato un ThingLink per accogliere sull'argomento trattato i prodotti multimediali degli studenti che saranno discussi in plenaria. Questa è la seconda parte del tutorial ThingLink. Come vi avevo detto, si entra subito, una volta allongati, nella propria dashboard che corrisponde ai miei contenuti. Se avete già creato dei contenuti, li troverete nell'interfaccia. Se non li avete creati, la troverete vuota e andrete a crearne uno. Nella barra in alto avete la possibilità di passare a professional di ThingLink con molti vantaggi. Però questo account costa 42,70 dollari l'anno, inclusa l'IVA. I vantaggi sono, come vi dicevo, molti perché vi permette di creare, gestire e supervisionare fino a 60 di account studente. Consente poi agli studenti di creare dei contenuti interattivi. Ha degli editor potenti di immagini, video, immagini a 360 gradi. La libreria è ricchissima, si può rimuovere il logo di ThingLink, avere statistiche eccetera eccetera. Comunque potete andare a visualizzare se siete ed è l'avviso di prendere un account professional, tutti i vantaggi da questo link. Noi andiamo di nuovo ai miei contenuti, vedete che c'è l'icona cerca, poi avete questa icona che vi dà la possibilità di organizzare i contenuti in griglia piccola, media, grande o elenco. Poi ci sarebbe il creare una cartella ma non è disponibile per l'account free che noi stiamo usando. Andiamo in creare, no prima di andare in creare andiamo a vedere le collezioni, la libreria 360 gradi, con quindi vi mette a disposizione delle immagini a 360 gradi e poi l'organizzazione, ma questa non la guardiamo. andiamo di nuovo nei miei contenuti, andiamo in create, si apre la finestra dei tipi di contenuto che si possono creare, potrei partire da una tela vuota, da un'immagine, immagine 360 gradi o più virtuale, eccetera eccetera. Ho intenzione di preparare una immagine statica con dei link dinamici che riportino dei contenuti. Pertanto vado in immagine e dalla cartella del mio computer trascino l'immagine che ho preparato. Questa immagine me l'ha caricata, vado di nuovo in my content nei miei contenuti, apro l'immagine, rappresenta questa immagine la via del nome che che viene citata nel poema sulla natura di Parmenide e quindi ho messo, l'ho prodotta questa immagine assemblando l'immagine della Porta Rosa che divide i quartieri del giorno e dei quartieri della notte. Ho messo le famose cavalle, le tanto lodate cavalle di Parmenide, un'effigie a simboleggiare Parmenide e sullo sfondo la Dea Giustizia, come potete vedere, che divide questi due quartieri della notte e del giorno. dal momento che trascinando l'immagine mi ha messo un titolo non esatto che è la via del numero, invece è la via del nome, vado nell'icona a rinominare, quindi, no non l'avevo messo giusto, rinomina il file, la via del nome, salva, dopo lo cambieremo, poi avete le impostazioni della privacy, qui in alto e allora in queste impostazioni molto importante definire chi vedrà i contenuti, può essere relativo alla mia organizzazione, al pubblico, che chiunque può trovare e accedere, non in elenco, che chiunque abbia il link può accedere, nessun accesso richiesto e privato, rimettiamo non in elenco, salvo queste impostazioni e poi andrò a, posso anche clonare questa immagine, posso sostituire lo sfondo, posso scaricare l'immagine, ma non è ancora ora, e posso eliminare l'immagine, poi quando il lavoro sarà fatto andrò a, ho la possibilità di condividere, incorporando il media, qui ti dà il codice embed di incorporamento, condividere il link, o pubblicare su IA social, vedete che vi dà anche la possibilità di ottenere un codice QR, o un URL breve per VR, chiudo questa finestra, poi vedremo come condividere a latine, e vado a modificare con la pennina, modifica, e in questa finestra posso quindi inserire gli elementi dinamici e interattivi, ma prima di fare ciò, posso andare in setting, a modificare la color scheme, e lo schema del colore, posso anche scegliere un altro, di quelli che mi vengono proposti, e dare il done, poi posso disabilitare l'animazione, la lascio attiva, posso avere una finestra di windows, è una finestra di pop-up large, e posso anche uploadare un audio, faccio done, vado ora ad inserire gli elementi, vado ora in add tag, mi riporta a una serie di possibilità, di aggiungere test in media, test label, content from website, creare anche un tour tra le varie presentazioni, e create a poll, andiamo a creare alcuni elementi, add a test in the media, mi chiede di scegliere il layout, scelgo questo, di cambiare, se voglio, l'icona, infatti la cambio, userò questa icona, di mettere un title, metterò chiera parmenide, nella description, metto presentazione, e metto nel button URL, il link a Wikipedia, il button test, posso ripetere presentazione, posso aggiungere un'immagine o un video, vado a scegliere l'immagine sul mio computer, che vedete mi ha inserito in questo modo, nel layout, posso anche aggiungere un audio se voglio, questa, questa, questa è una presentazione di parmenide da Wikipedia, chiudo l'audio, questa, questa è una presentazione di parmenide da Wikipedia, metto, eh, clicco su done, e vedete che mi ha posizionato la stellina, è una presentazione di parmenide da Wikipedia, le icone le posso comunque sempre spostare dove voglio, posso mettere un add tag, ancora, add test, anzi, mettiamo un add test label, posso cambiare l'icona, in questo caso metto una home, vedete che ha cambiato l'icona, nel testo potrei scrivere parmenide lungo la via del nome verso la conoscenza, ho la possibilità, eh, poi, di fare il done, quindi ho inserito il testo, done, e la home la metterò qui, mi spiega che, di che cosa si tratta, vado in add tag e posso inserire quindi un contenuto embed da un website, in questo caso cambio l'icona e metterò un video youtube e qui incollerò il codice embed del video youtube e come potete notare mi ha inserito il video di youtube, questo video parla del proemio, cioè legge praticamente scrivendolo e musicandolo il proemio di parmenide, chiudo, posso metterlo in qualsiasi punto, metto un altro tag, in questo, anche in questo caso voglio mettere un content from website, andando ad aprirmi una finestra sul computer nelle app di google scelgo maps e scelgo a porta rosa ascea, l'avevo già cercata prima, vedete porta rosa e trascino lumino a porta rosa, questa è porta rosa, mettiamo la visualizzazione che ci interessa, la porta che divide quindi le zone del giorno dalle zone della notte, la porta è quindi simbolo della conoscenza e poi vado in condivido o incorpora immagine, incorporare una mappa, copio il link html, copia, chiudo, ritorno nel mio thing link e incollo il codice embed di porta rosa, quindi anche qui ho inserito un'immagine che è un'immagine interattiva, è un'immagine a 360 gradi, bene, vado in done, però mi accorgo di aver messo un'icona che non va bene e quindi ritorno indietro, vado in change icon e a scegliere questa icona che è quella adatta alle mappe di google, quindi ho cambiato l'icona e questa è l'icona di porta rosa con l'immagine 3D. Per concludere volevo dirvi che abbiamo realizzato con poche mosse una immagine e una rappresentazione visiva aumentata con una serie di informazioni ed è questo che Thing Link ci permette di fare, quindi per rendere interattiva la conoscenza nello stesso tempo presentando un argomento in maniera stimolante. Possiamo ora vedere come aggiungere realtà aumentata utilizzando un'immagine a 360 gradi. Vado in Create, scelgo 360 gradi in Mage or Virtual Tour e vado a trascinare in questa posizione un'immagine dal mio computer. L'immagine è a 360 gradi. L'ho caricata, continuo e vedete che mi compare qui nei My Content. Apro l'immagine, vedete che è un'immagine a 360 gradi, è la croce di Re Desiderio in Santa Giulia a Brescia. Ora, agendo con Edit la pegnina, vado ad aggiungere i Tag, Add Tag. Add Test and Media, posso cambiare un'icona e mettere ad esempio Home come icona. Il layout lo lascio così, metto il title, croce di Re Desiderio. Torniamo indietro, croce di Re Desiderio. Do una description, metto adesso, dopo posso cambiarlo, la croce famosa. di Re Desiderio con gemme e pietre preziose. Voglio uploadare un'audio, upload audio per dare una description. Nel contesto del cielo stellato del Ferramola, nell'oratorio di Santa Maria in Solario, si trova la croce di Re Desiderio, si trova la croce di Re Desiderio. Ok, do il Done, e qui abbiamo la Home che possiamo posizionare in questo punto di questa immagine, 360 gradi. Vado ad aggiungere un altro Tag, aggiungo Add Test Label, aggiungo quindi un testo, qui. cambio l'icona, metterò questa, metterò tour virtuale, ad esempio, o qualsiasi cosa. In Santa Maria in Solario, Dan, posso metterlo qui. In questa posizione dell'immagine, 360 gradi. Vado ad aggiungere un altro Tag. Aggiungo un contenuto From Website, incollando il codice Embed. E qui incollerò il codice Embed di un video YouTube. Incollo il codice Embed, e vedete che ho inserito il video. Tradizione e suggestione avvolgono la croce di Desiderio. Ecco, cambio l'icona, metto una che mi dica, che ci dica che è un video. Questa va benissimo. Vado in Done. Vedete comparire il video. Lo metterò qui, in questa posizione, o dove si vuole. Aggiungo un altro Tag. Add Text and Media. Metto un titolo. Da Wikipedia. Description. Notizie sulla croce di Re Desiderio. Incollo il button URL. E ho qui, quindi, il riferimento a Wikipedia. Posso aggiungere un'immagine dal mio computer. E, ad esempio, vediamo se trovo l'immagine giusta. Seleziono l'immagine che ho salvato. Apri. E mi vedete comparire qui l'immagine utilizzata da Wikipedia. Vado a cambiare l'icona. Posso mettere un'altra stellina, un cuore. Ok. Vado in Done. Vado in Done. E qui ho, ho quindi un'altra, un altro tag che mi rimanda a realtà aumentata. Come potete vedere. Posso aggiungere, posso aggiungere anche un altro. Add Tag. Add Test and Media. Il title. Metto Fondazione Musei. Nella descrizione della Croce di Desiderio. Mi inserisco una button URL. E quindi ho fatto, potrei anche aggiungere un'immagine, ma per il momento basta così. Per l'icona posso scegliere qualsiasi icona si voglia. Usiamo questa stavolta. Usiamo questo. E vado in Done. Come vedete questo per le informazioni. Andiamo ad aggiungere un altro tag. Add Tag. E aggiungiamo di nuovo Add Test e Media. No, preferisco aggiungere, preferisco aggiungere invece, con l'Add Tag. Add Content from Website. e in questo caso cambio l'icona. E mettiamo una mappa. In questo caso, questo va bene l'icona. La cambio dopo. Devo mettere una mappa, quindi vado in una nuova finestra. Cerco Maps. E in Maps vado a scegliere e a scrivere Museo di Santa Giulia via dei Musei Brescia. Ok. Vabbè, posso mettere il, trascinare l'omino sul, in generale, sul Museo di Santa Giulia. Vediamo che cosa mi da. Vabbè, mettiamola qui, tanto per mettere una mappa dimostrativa del Museo di Santa Giulia. Dai tre puntini, vado in Condividi o Incorporo un'immagine. Incorporare un'immagine. Copia HTML. Ritorno nel mio ThingLink. Incollo il codice HTML Embed, qui. E vedete che ho l'immagine inserito, l'immagine a 360 gradi. Che è questa. Vado a cambiare l'icona, però. E metto questa, che mi rappresenta un View Street. Vado in Done. E vedete? Posso posizionarla dove voglio, nell'immagine a 360 gradi, anche qui. Ho quindi realizzato una, come vedete, immagine a 360 gradi, aumentata. E vedete. E vedete. E vedete. E vedete. E vedete.